Metti dentro, metti dentro proprio, subito! Cosa stava succedendo e tornava a squash? Il centrocampo è inedito per questa stagione, l'avevate provato solo negli amitevoli di agosto, come ti sei trovato nel primo tempo? Ma se non provate a scoprire nella logica del campo? Sì, però secondo me eravamo stati, abbiamo già detto, abbiamo iniziato bene, 5-6 minuti, abbiamo progettato bene, poi c'era un periodo dove abbiamo soffritto, abbiamo operato delle volte questa caccia, abbiamo salutato bene i nostri occhi durante la morte e poi secondo me alla fine ho tre punti militari. De Rossi e Osvaldo fuori, Zeman prima in conferenza stampa ha detto che entrambi non hanno le giuste motivazioni, che idea ti sei fatto? De Rossi e Osvaldo, sono stati lasciati in panchina, Zeman ha detto che non hanno le giuste motivazioni e non si allenano come dovrebbero durante la settimana, che idea ti sei fatto della loro esclusione? Non abbiamo sentito delle parole, se vi averci un commento su quello che ha detto Zeman, che non abbiamo sentito in conferenza, mi pare che non è corretto, grazie. No, siamo una squadra, tutti vogliono giocare, tutti vogliono vincere, però alla fine del sualatorio vi posso dire che tutti sono stati molto molto felici. Vi siete mai sentiti in crisi? No, dobbiamo continuare a lavorare, dobbiamo continuare a seguire l'amministrazione, come vediamo adesso, che quando seguiamo l'amministrazione, quando da prima del bene, abbiamo una squadra molto molto forte. Grazie. Grazie.